Siamo tutti a termine di questa bellissima edizione del Palio dei Mastelli. Ci siamo, ci siamo per chiudere questa serata, ma prima è importante dirci delle cose che dobbiamo ricordare a voi. E sì, è arrivato il momento di fare tutti i ringraziamenti per le persone, gli esercizi commerciali, l'autorità, coloro che ci hanno aiutato con una cana a rendere possibile questa bellissima serata. Naturalmente la risparmessa è stata difficile, anche a volte di partire, ma anche il suo avviso, 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 ma sono anche avanti a tutti. Senza tanti spreciosi e l'unico, quello che abbiamo visto in queste serate non sarebbe stato possibile? No, non sarebbe stato possibile. Da parte di tutti, anche quello che può sembrare un aiuto poco significativo all'interno del disegno del Palio, diventa importante. quindi singola tessera di questo grande puzzle che è il nostro palio è brutalizzare, quindi tutti quelli che partecipano è giusto che abbiano un riconoscimento. E allora io non fuggerei e comincerei con ringraziare la nostra amministrazione comunale, grazie, un saluto particolare, affettuoso, davvero di grande cuore va al nostro sindaco che questa sera è in questo edizionale possibile che ci sia stato con noi, ma noi lo ricordiamo sempre e con grande affetto, è un piacere gentile e forte per tutti. Abbiamo poi da ricavizzare la regione dell'Ordia, la parrocchia Beata Vergine del Rosario, la polizia municipale e la protezione civile, Nando Caso, Zucco, dei Bordari, gli allievi Bordari con il buon allenatore Marco Gasparini, le Castellani e gli allenatori, i ragazzi di cerchi con i cerchi con il buon allenatore, il buon allenatore, il buon allenatore, il buon giuseppe Marangola, il buon allenatore, 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 il buon allenatore di Alba, il buon allenatore San Lorenzo, il buon allenatore di Alba, 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 il bu Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Appunto, dicevamo, invitiamo qua il nostro assessore alle politiche sociali giovanile, la nostra Chetti. Raggiungeci Chetti qua per portarci in magia di saluti Giancarlo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.